Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Questo è uno di quei casi di omicidio che è rimasto per tanto, troppo tempo, senza un colpevole. Questa storia, a me, fa soffrire, forse per la tenacia che ha dimostrato il padre della vittima di questa tragedia, ossia Serena Mollicone. Questa è la storia di Serena, della sua giovane vita spezzata e di un padre che non si è mai fermato di fronte a nulla pur di scoprire la verità. La tragedia nella tragedia avviene quando Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, se ne va da questo mondo senza aver ricevuto giustizia. Ma partiamo dall'inizio, siamo ad Arce, un comune di quasi 5.000 abitanti in provincia di Frosinone, nel Lazio. La famiglia Mollicone abita nel cuore di Arce, in una casa modesta come tante altre, due stanze, un salottino, una piccola cucina, pochi mobili e un televisore che occupa parte dell'ingresso. È la mattina del primo giugno 2001 quando Serena Mollicone esce di buon'ora e non fa più ritorno a casa. Sarebbe dovuto rientrare per le 14 in maritarda, cosa che può capitare, ma quando il padre prova e riprova a chiamarla, il suo cellulare risulta sempre spento. Ma cosa doveva fare Serena quella mattina di venerdì primo giugno 2001? Ebbene, Serena sarebbe dovuta andare a una visita dentistica, poi a scuola, al liceo socio psicopedagogico Vincenzo Gioberti di Sora. Ma di fatto, a Sora, Serena non arriva mai. È così che la famiglia di Serena, e con essa tutta Arce, vive dei momenti carichi di angoscia. Serena non è una ragazza ribelle, anzi, è molto responsabile, ha la testa sulle spalle, è dolce, è disponibile con tutti, ha anche un fidanzato. Vengono immediatamente allertate le forze dell'ordine. Insomma, una ragazza di 18 anni è scomparsa e tutto il paese non si tira indietro, ma si unisce alle ricerche. Sono convinti le sia successo qualcosa, Serena è una ragazza troppo per bene per essere incappata in qualche brutto giro. Certo, potrebbe essere stata aggredita, ma da chi? E poi, sarebbe stata aggredita in pieno giorno? Le abitanti di Arce non vogliono pensare al peggio, quindi la cercano. Ipotizzano che forse sia caduta in qualche scarpata. Il 2 giugno alla caserma di Arce si presenta un uomo che sostiene di aver visto Serena il giorno prima, attorno alle 10 del mattino a Fontanalieri, nei pressi del bar Chiopetelle. La ragazza, che lui ha riconosciuto come Serena, veniva strattonata da un ragazzo. Quest'uomo si chiama Carmine Belli, era in auto con Pier Paolo Tomaselli, un suo collaboratore, per andare a comprare della vernice al fine di sistemare un'auto. Sottolinea di aver visto Serena per 10-15 secondi al massimo, ma quell'immagine gli è rimasta particolarmente impressa. Stando alla descrizione, i due ragazzi si trovavano, più precisamente, a una fermata dell'autobus, a un paio di metri dalla strada. La ragazza piangeva e il ragazzo la tirava verso il marciapiede. Arriva il 3 giugno e a questo punto si attiva anche la protezione civile, che inizia a compiere delle ricerche lungo il fiume Liri. È qui che i poliziotti arrivano presso il boschetto di Fonte Cupa, ad Anitrella, una frazione di Monte San Giovanni Campano, a 8 chilometri da Arce. Questo è un luogo dove sono soliti appartarsi le coppiette. Gli inquirenti, indagando, si rendono conto che la folta vegetazione è stata schiacciata dalle ruote di un'auto, arrivando a delineare una sorta di sentiero. I volontari si inoltrano in questo sentiero. Ci sono diversi rottami, tv e frigoriferi rotti e abbandonati. E proprio lì vicino, in mezzo alle sterpaglie, viene trovato il corpo senza vita di Serena Mollicone. Ha ancora addosso i vestiti con cui è scomparsa, ossia dei leggings neri e una maglia rossa a fiorellini. Le mani e i piedi sono legati con del nastro adesivo e del fil di ferro. La testa è infilata in un sacchetto di plastica. Vicino alla scena del crimine vengono anche rinvenuti dei libri. Un foglio della tesina che la ragazza avrebbe dovuto consegnare il primo giugno, giorno in cui è scomparsa, e una felpa rossa. Quando le tolgono il sacchetto dalla testa notano che Serena ha una grossa ferita vicino all'occhio sinistro, mentre la bocca e il naso sono sigillati dal nastro adesivo. Secondo gli inquirenti la giovane sarebbe stata colpita al capo, forse con una tavola di legno, in un altro luogo e poi trasportata nel bosco ancora in vita, probabilmente morta dopo una lunga agonia per asfissia. L'assassino, insomma, era a conoscenza di un luogo abbastanza isolato dove nascondere il cadavere. Aveva quindi agito con lucidità. A prima vista quello di Serena non sembra né un omicidio passionale né un delitto d'impulso. Sul corpo non vengono individuati segni di violenza intima né di collutazione. Nel paese, però, si diffondono false voci che parlano di violenza intima sul corpo di Serena. Addirittura si dice che il suo corpo sia stato sfregiato come in un rituale macabro. Il sindaco Luigi Germani afferma, È una mazzata per tutti noi. Io la conoscevo bene poiché il padre è stato mio compagno di scuola. Speriamo che i carabinieri riescano a trovare i responsabili del delitto. La nostra è una comunità tranquilla e, prima d'ora, non era mai accaduto nulla di simile. Secondo i risultati degli esami autoptici, Serena Mollicone sarebbe morta nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 giugno. Ci sono tre testimoni che avrebbero riconosciuto Serena in compagnia di una sua amica tra le 11 e le 11.30 del 1 giugno 2001 a Isola dell'Iri. Queste testimonianze, però, non concordano con quella di un autista della corriera che avrebbe visto Serena scendere ad Arce alle 11.25. La ragazza, se così fosse, sarebbe dovuta salire sulla corriera a Isola dell'Iri intorno alle 10.45. Altrimenti si potrebbe ipotizzare che Serena abbia raggiunto Arce con una macchina o a bordo di uno scooter arrivando in paese alle 11.45. Risulta attendibile la testimonianza di una sua amica che l'avrebbe vista al mercato sul corso verso le 11.30 o mezzogiorno. Forse Serena è andata a casa, si è cambiata e ha lasciato la tesina a cui sta lavorando per gli esami di maturità. Infatti quel giorno avrebbe dovuto cominciare a trascriverla sul computer della scuola, ma lì non risulta essere andata. Poi sarebbe uscita portando con sé la borsa, i libri, un capitolo della tesina e il suo cellulare che però può soltanto ricevere chiamate. Il fidanzato comincia a chiamarla alle 13.40 e continua durante la giornata senza però ricevere alcuna risposta. Sul nastro adesivo che legava Serena viene trovato un frammento di impronta digitale che potrebbe rivelarsi importante per individuare l'assassino o un suo eventuale complice. Gli inquirenti, ormai convinti che Serena sia stata uccisa da qualcuno che la ragazza conosceva bene, controllano immediatamente le impronte digitali di molte persone che abitano nella zona. Si cerca anche di dare un'identità a un uomo che, secondo diverse testimonianze, avrebbe accompagnato Serena a scuola diverse volte con una macchina rossa. Prima però dobbiamo fare un passo indietro e, come al solito, chiederci qual è la storia di Serena Mollicone. Nasce ad Arce il 18 novembre del 1982, è la seconda di due figlie. Consuelo, sua sorella maggiore, ha dieci anni in più di lei. Serena cresce spensierata, almeno fino ai suoi sei anni, quando sua mamma viene a mancare a causa di una brutta malattia. Così Guglielmo Mollicone, il padre di Serena e Consuelo, si tira sulle maniche. La morte della donna che ama lo addolora terribilmente, ma deve prendersi cura delle figlie. Guglielmo fa l'insegnante in una scuola elementare ed è titolare di un negozio di cartolibreria. Con il papà, Serena instaura negli anni un rapporto bellissimo fatto di complicità e amore. Serena, quando cresce, suona il clarinetto nella banda del paese, con la quale si esercita due volte alla settimana. Serena è una ragazza gentile, premurosa, disponibile, sempre sorridente. Sembra impossibile che questa vita sia stata spezzata, gli abitanti di Arce sono davvero tanto addolorati. Le indagini dei carabinieri iniziano interrogando alcune persone informate sui fatti. Insomma, si ascoltano i familiari, gli amici, il ragazzo di Serena. Che cosa ha fatto lei quella mattina, prima di scomparire? Il giorno della scomparsa, Serena non si reca a scuola, ma va all'ospedale di Isola del Liri, a 10 chilometri da Arce, dove effettua una radiografia ai denti. Terminata la visita medica alle 9.35 circa, la ragazza va in una panetteria dove acquista quattro porzioni di pizza e quattro cornetti. Forse per dividere il cibo con altre persone? Ma che? Serena ama gli animali ed è solita comprare qualcosa dal fornaio per sfamare i randaggi del paese. Qualcun altro, però, l'avrebbe notata mentre entrava dal tabaccaio per comprare un pacchetto di sigarette. Ebbene, questa circostanza è molto strana, perché Serena non fumava. Poi probabilmente prende il pullman per ritornare ad Arce. Da questo momento in poi ho riscontrato un po' di confusione nelle fonti. C'è chi dice che sia stata vista fare l'autostop, chi invece sostiene che effettivamente Serena ha preso il pullman. Alle 13.15 viene vista nella piazza principale del paese ed è a questo punto che di lei si perdono le tracce. Serena quel pomeriggio alle 14 deve raggiungere il suo fidanzato a Sora, presso uno studio dentistico. Ma a quell'appuntamento la ragazza non si presenta mai. Vere o no, altre voci si susseguono sui tacquini dei cronisti e degli inquirenti. Di certo, la studentessa modello ha saltato l'appuntamento pomeridiano con il dentista. Eppure a scuola, nel preside, nelle professoresse, nelle sue compagne della Quinta G, l'hanno vista, stupendosi di questa assenza poiché la sua puntualità e il suo rigore nel presentarsi alle lezioni vengono prese ad esempio. Intorno alle 13.15 passa da casa, si cambia il vestito, lascia sulla scrivania della sua camera quasi tutta la tesina che sta scrivendo per l'esame di maturità. L'argomento? Una cinquantina di pagine tra criminologia e filosofia, incentrate sulla follia scritte sul campo, andando a spulciare carte, a contattare quanti avevano avuto modo di studiare la vicenda di un ragazzino di nome Mauro Iavarone, massacrato nel 1998 in un viottolo di campagna di San Giovanni in carico, un centro a pochi chilometri da Arce. Alle 21.00, il padre di Serena denuncia la scomparsa della figlia. Gli inquirenti, proseguendo con le indagini, si rendono conto che dalla scena del crimine mancano degli elementi, oggetti che Serena avrebbe dovuto avere con sé, ossia il suo zaino, le chiavi di casa e il suo cellulare. Sarebbe davvero molto utile visionare quel cellulare perché potrebbero così avere accesso agli ultimi contatti di Serena, magari anche alla conversazione con il suo assassino. I sommozzatori a questo punto ispezionano il fiume Liri, col fine di trovare lo zaino della ragazza che magari contiene le sue chiavi e il suo cellulare. Ma dopo ore di ricerche, purtroppo, non trovano nulla. Sono le 12.30 di sabato 9 giugno, fa caldissimo. Entro quattro ore sarebbero iniziati i funerali ufficiati dal vescovo di Sora, celebrando il lutto cittadino. Ai piedi della bara bianca, simbolo di purezza e innocenza, c'è il padre di Serena, che piange disperato. Quell'uomo è una maschera di dolore. Le lacrime gli scendono silenziose sulle guanci, i suoi singhiozzi sono trattenuti, ma più forti che mai. La barba è incolta, indossa una giacca blu trasandata e una camicia a fiori, sbottonata. Ma nel mezzo del funerale, Guglielmo viene avvicinato da un carabiniere in borghese, ossia il maresciallo Mottola. Viene letteralmente preso per le spalle e portato in caserma per firmare il verbale. E qui arriva il mio dissenso. Questo, a mio avviso, è un gesto crudele, che non rispetta neanche il dolore di un padre che ha perso una figlia tanto giovane in un modo così disumano. È davvero il caso di trascinare Guglielmo in caserma per firmare un verbale? Voglio dire, aspettare la fine della funzione funebre non sarebbe stato più opportuno e delicato? Tutte le persone presenti al funerale rimangono sbigottite e ben presto le male lingue si rincorrono. I pettegolezzi girano veloci ed è a questo punto che il paese inizia a sospettare proprio di Guglielmo. In effetti, Guglielmo viene portato sì in caserma per firmare un verbale, ma viene anche interrogato per ben due ore. Perché? Beh, perché è stato trovato il cellulare di Serena. Il cellulare della ragazza, cercato inutilmente per una settimana, era stato dato per disperso, ma adesso, a poche ore dall'inizio dei funerali, viene trovato proprio in un cassetto della scrivania della stanza di Serena, nascosto da un pacco di fogli, libri e quaderni. Lo scopre il fratello di Guglielmo Mollicone, Antonio. L'ha trovato per caso, in quanto si è messo a frugare tra le cose di sua nipote e, a un certo punto, ecco spuntare quel telefonino, che i carabinieri stanno cercando dappertutto. Antonio Mollicone li contatta per informarli e loro restano di stucco. Secondo il padre di Serena, il cellulare è stato portato in casa durante la veglia notturna. Non ci sono altre spiegazioni. Inoltre, Guglielmo insiste sostenendo che l'assassino deve essere qualcuno che conosce bene le abitudini di Serena e la casa. Guglielmo Mollicone avvise i carabinieri del fatto di aver cambiato la serratura di casa perché Serena, al momento della scomparsa, aveva un mazzo di chiavi che non è mai stato ritrovato dagli inquirenti. E, poiché in certi frangenti si sente addosso gli occhi curiosi di tante persone, quasi un autentico linciaggio senza che si tenga conto del suo dolore, deluso e irritato, il 12 giugno 2001, Guglielmo Mollicone vuole giustamente precisare «Non ho mai avuto avvisi di reato e ho dato le impronte digitali spontaneamente». Poi aggiunge ad aver chiesto una protezione legale per impedire qualsiasi tipo di illazione, giungendo a dire «Se fossi stato io accidentalmente, l'avrei detto subito, senza mettere in atto questa messa in scena». Viene quindi da pensare che la mente criminale che ha organizzato il delitto, con le sue azioni di depistaggio, voglia indirizzare certi sospetti su familiari e persone vicine alla vittima. Deve essere stato terribile per Guglielmo Mollicone, oltre al dolore e alla disperazione per aver perso una figlia, avvertire intorno a sé un'atmosfera che non trasmette solidarietà nei suoi confronti, anche se la stragrande maggioranza della gente di Arce, quella che Bello conosce come padre, insegnante e cittadino, partecipa compatta al suo stato d'animo. Sul telefono scomparso e poi riapparso in camera di Serena, gli inquirenti trovano strani numeri salvati in rubrica, come 666, il numero del demonio, e allora ecco che si apre un'altra pista, ossia quella satanica. Tra le supposizioni venne presa in esame anche quella riguardante l'ipotesi di una similiarità tra l'omicidio di Serena Mollicone e quello di Nadia Roccia, la ragazza trovata morta in un garage di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia, uccisa per mano di due amiche, presumibilmente dedicate anche a riti satanici. Sembra tra l'altro che, a proposito della sua tesina per la maturità magistrale, Serena Mollicone si stesse preparando a intervistare un noto letterato, esperto di devianze psichiatriche e di paranormale. Ma? Ecco che la morte sopraggiunge prima di scrivere l'ultimo capitolo. Il fatto che sia stata legata a magne e piedi con il sacchetto di plastica, infilato in testa, può lasciare una porta aperta sulla pista esoterico-satanica? Ben presto si arriva alla conclusione che quel numero sul cellulare SS6 lo aveva salvato proprio il suo assassino, col fine di depistare le indagini. Intanto gli inquirenti del caso Mollicone non trascurano alcun particolare, mettendo al vaglio anche le voci più strane. Eccoli perciò mettersi alla ricerca di una casa abbandonata dove la ragazza potrebbe essere stata portata. Serena forse sarebbe stata colpita durante un litigio. Poi l'assassino le avrebbe legato polsi e caviglie, messo il sacchetto di plastica in testa e l'avrebbe portata sul luogo del ritrovamento, in quella radura con adiacente boscaglia vicino al fiume e a un tratto di strada statale. Avrebbe infine scaricato il corpo quasi a ridosso di un frigorifero abbandonato. Ci sono tante ipotesi, ma nessuna certezza e purtroppo l'assassino di Serena è ancora libero. In realtà sono in tanti che cercano di sviare le indagini per scoprire l'identità del colpevole. Un altro episodio si verifica nella casa della giovane uccisa. Dieci giorni dopo il ritrovamento del telefonino, viene rinvenuta nella stessa cassettiera una piccola quantità di cosa da fumare. Ci siamo capiti. Qualcuno, dunque per la seconda volta, sarebbe entrato nell'abitazione di nascosto. Il padre di Serena ritiene possibile che sua figlia sia stata coinvolta, forse inconsapevolmente, in un giro pericoloso legato alle sostanze. Ma questo strano ritrovamento potrebbe rivelarsi un ennesimo tentativo di depistaggio. Per facilitare le indagini vengono usate anche delle microspie che registrano centinaia di colloqui, specie nel sottobosco delle persone di provincia con problemi di dipendenza. Con una conclusione, Serena non faceva uso di sostanze. Il 6 febbraio 2001, a otto mesi dalla morte di Serena, nel liceo socio-psicopedagogico di Sora, frequentato dalla ragazza prima di morire, viene notata una scritta su una porta dei bagni. S.M. So chi ti ha ucciso, però mo', cioè per adesso, non posso parlare. Il preside riunisce gli alunni e li invita a fornire indicazioni utili per individuare l'autore di quella scritta, ma nessuno dice nulla. A seguito di un periodo di latenza nelle indagini dei carabinieri, viene incaricata all'Unità Analisi del Crimine Violento, una squadra che ha al suo interno dei veri e propri profiler che in passato hanno indagato su alcuni delitti seriali. I giornali la chiamano la squadra antimostro, così finalmente le indagini riprendono. Il primo giugno 2002 ad Arce sfila una lunga fiaccolata che percorre la strada del paese. La fiaccolata viene predisposta dal Coordinamento Giovani di Arce, un'organizzazione trasversale che raccoglie i ragazzi di tutte le tendenze politiche. Si erano impegnati a lungo per questa manifestazione. Per loro il ricordo di Serena è indissolubilmente legato al bisogno di legalità. Sul loro striscione c'è scritto «La tua giustizia, la nostra libertà». A questo punto la squadra antimostro recupera tutti i verbali degli interrogatori fatti dalla polizia e tra questi ecco che rispunta quello di Carmine Belli, il carrozziere che ha sostenuto di aver visto Serena nei pressi di un bar mentre litigava con un ragazzo. Qualcosa in quel verbale non convince gli inquirenti, che quindi decidono di approfondire. Da questo momento Carmine viene convocato sempre più spesso in questura. Il bar Chiopetelle si trova a circa 200 metri dal luogo del ritrovamento. L'interrogatorio di Carmine dura ben 12 ore. L'uomo non ha ricordi nitidi, entra in contraddizione, sbaglia luoghi e date, così gli inquirenti pensano di aver trovato l'assassino. In effetti le circostanze che lo inchioderebbero iniziano a essere parecchie. Lui è l'ultimo ad aver visto Serena viva. È l'unico ad averla vista litigare con qualcuno e per di più il bar Chiopetelle lo frequenta spesso. Quindi, di conseguenza, conosce il luogo del ritrovamento, oltre a conoscere Serena. La polizia scientifica, alla ricerca di ulteriori indizi o prove, si reca presso la carrozzeria di Carmine Belli. Inizia a compiere rilievi in tutta l'officina. Durante le perquisizioni in una scatola contenente documenti e fatture, la polizia trova un frammento di una ricevuta rilasciata da un medico odontoiatra di Sora. Ebbene, quel medico, quel dentista aveva in cura proprio Serena Mollicone. Ovviamente gli inquirenti mettono immediatamente quella ricevuta sotto il naso di Carmine Belli, sostenendo che apparteneva di certo a Serena Mollicone. Quindi, che ci fa nella sua officina in una scatola destinata a conservare le fatture? Noto una circostanza che si ripete in poco tempo. Il cellulare di Serena, prima introvabile, poi rinvenuto in camera sua, in un cassetto. La comparsa di un pezzo di roba da fumare nello stesso cassetto in cui era stato ritrovato il cellulare. La ricevuta di Serena che appare nell'officina di Carmine Belli senza che lui l'abbia mai vista. E infatti Carmine non riesce proprio a spiegare come quella ricevuta sia finita in mezzo ai suoi documenti. Ma Carmine ha un collaboratore, Pierpaolo Tomaselli, il quale sostiene che l'uomo ha un alibi. Infatti, all'ora dell'omicidio, era in officina. Poi però, improvvisamente, Pierpaolo Tomaselli ritratta. No, quel giorno Carmine in officina non è mai arrivato. Inoltre c'è una novità rispetto alla prima perizia medico-legale. Serena Mollicone sarebbe stata uccisa nel primo pomeriggio di venerdì primo giugno e lasciata nel boschetto la sera stessa. E non nella notte tra sabato e domenica, come inizialmente si sosteneva. Giovedì 6 febbraio 2003, gli uomini della squadra mobile di Frosinone arrestano Carmine Belli, di 36 anni, residente ad Arce e proprietario di un'officina. Secondo gli inquirenti sarebbe l'assassino di Serena Mollicone. Dopo 20 mesi di indagini lacunose e piste improbabili, finalmente chi ha ucciso Serena è stato consegnato alla giustizia. Carmine Belli da questo momento diventa il mostro di Arce. I giornalisti fanno diverse dirette, la notizia arriva in tutte le case italiane. Ma è davvero Carmine Belli il colpevole? Ciò che è certo è che l'uomo dal carcere di Cassino rifiuta con tutte le sue forze quella tremenda accusa. Nega di aver ucciso Serena e dice di aver paura. Insomma, secondo la sua avversione sta pagando per qualcun altro. Inoltre, in questi casi, dalla forte risonanza mediatica, accade che la procura voglia un colpevole a tutti i costi nel minor tempo possibile. E allora eccolo il colpevole, il mostro da sbattere in prima pagina. C'è da dire che anche Guglielmo Mollicone crede che Carmine Belli non possa aver fatto tutto da solo. Nel gennaio del 2004 si celebra il processo contro Carmine Belli e la difesa prova a smontare tutte le tesi accusatorie nei confronti dell'uomo. Prima di tutto, sul pezzo di carta trovato in una scatola nella sua carrozzeria non c'è il nome di Serena, bensì una semplice data. Inoltre, nella macchina di Carmine Belli non vengono trovate tracce di Serena né ematiche, né di capelli, né di altro tipo. I PM sostengono che Carmine ha ucciso Serena in macchina, ma se nella sua auto non ci sono tracce della ragazza come può aver compiuto il delitto con queste modalità? Vi ricordo che Serena aveva una grossa ferita sul viso come ha fatto a non perdere sangue? Inoltre, alla fine emerge che Carmine Belli, un alibi, ce l'ha e come. Serena è stata uccisa nel primo pomeriggio di venerdì primo giugno e Carmine era davvero nella sua officina. Inoltre, come detto prima, sul nastro adesivo che legava Serena era stato trovato un frammento di impronta digitale che però non appartiene a Carmine Belli. Il 6 luglio 2004, alle 19.05, dopo sette ore di camera di consiglio, il giudice Biaggio Magliocca pronuncia la sentenza accompagnata da un applauso. L'imputato Carmine Belli è assolto. Poco più di un'ora dopo, Belli esce dal carcere e dice a un giornalista I mollicone hanno diritto di conoscere l'assassino di Serena ma non sono io. L'imputato viene assolto dalle accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere perché gli indizi non sono ritenuti sufficienti in sostanza non si sono tramutati in prove. La difesa di Carmine Belli commenta È andata come avevamo sostenuto. Quando i processi sono costruiti sul nulla danno questi risultati. La sentenza è stata un'emozione straordinaria. Il padre della ragazza però rimane convinto della colpevolezza dell'imputato. Sono sicuro che lui, purtroppo lo so, ce l'ho nel cervello, afferma Guglielmo Mollicone dicendosi molto deluso dalla sentenza. In precedenza l'uomo aveva supposto l'esistenza di complici dicendo Nel corso del processo ho capito che ci sono dei complici e ho capito chi sono. È stato aiutato perché gli dovevano dei favori. Al termine dell'udienza Guglielmo Mollicone pronuncia parole molto dure nei confronti della stampa locale anche con qualche battibecco all'esterno dell'aula. Da questo momento gli anni passano e purtroppo le indagini sull'omicidio di Serena restano a un punto morto. Sono ormai trascorsi sei anni dalla scomparsa di Serena. È il 28 marzo 2008 e la procura di Cassino vuole chiarire alcune voci che circolano sulla locale caserma dei carabinieri di Arce. Si dice che la caserma e alcuni carabinieri che vi lavorano siano implicati nell'omicidio di Serena. La procura dunque li convoca tutti per sondare se ciò sia vero. Ebbene tra i carabinieri ascoltati quel giorno c'è un brigadiere di nome Santino Tuzzi. Tuzzi il giorno della scomparsa di Serena era in servizio presso la caserma e per la prima volta in sette anni dice che quella mattina intorno alle 11 era entrata una ragazza nella caserma di Arce. E quella ragazza era proprio Serena Mollicone. Il brigadiere sostiene che Serena era attesa dal maresciallo tanto che lui stesso aveva ricevuto una chiamata dall'interfono attraverso la quale la cosa gli era stata comunicata. Avrebbe dovuto far salire la ragazza direttamente all'alloggio in cui viveva la famiglia Mottola sopra la caserma. Il brigadiere riferisce di aver sentito chiaramente la voce di un uomo ma non sa se quella voce apparteneva al maresciallo Mottola o a suo figlio Marco. Quindi come da indicazioni Tuzzi lascia salire la ragazza che si reca nell'alloggio dei Mottola. Il problema è che non la vede mai più uscire da lì. Ma perché mai Serena quella mattina del primo giugno si è recata alla caserma dei Carabinieri? Ebbene c'è un collegamento. Serena era amico di Marco il figlio minore del maresciallo Mottola. Si ipotizza che Serena fosse stata convocata da Marco Mottola per un chiarimento su un pettigolezzo che la stessa Serena avrebbe messo in giro. Dovete sapere che Serena odiava le ingiustizie e le detestava con tutta se stessa. Da un po' di tempo si interessava al giro di sostanze circolanti ad Arce. In breve tempo, proprio a causa di quelle sostanze sette ragazzi erano morti. Così un giorno mentre era a scuola durante una lezione di attualità il cui tema erano proprio le sostanze Serena si era alzata in piedi aveva guardato la sua insegnante d'italiano e le aveva detto Ma come possiamo contrastare questo fenomeno se il figlio del comandante dei Carabinieri è il primo a mettere in giro queste sostanze? Quella domanda che Serena aveva posto di getto alla sua insegnante era arrivata in qualche modo alle orecchie di Marco Mottola. E quindi forse è per questo che lo aveva convocato Serena in caserma. Magari l'aveva intimata di smetterla di lanciare accuse senza fondamento verso di lui. Forse le cose in quell'alloggio erano degenerate e Serena aveva perso la vita proprio per mano di Marco Mottola. Mentre il comandante e suo padre avrebbe provveduto a depistare tutte le indagini. Tanto che avrebbe riportato il cellulare di Serena in casa mollicone salvando quel numero strano in rubrica 666. Il 9 aprile 2008 Tuzzi viene sentito una seconda volta ma inaspettatamente ritratta quanto riferito nel primo interrogatorio. Dice che non è certo che quella ragazza arrivata in caserma fosse proprio Serena. D'altronde lui l'aveva vista soltanto da piccola quindi non può confermare con certezza di aver visto Serena mollicone entrare in caserma. Un paio d'ore dopo aver ritrattato incalzato dal PM Tuzzi conferma quanto dichiarato il 28 marzo. Serena mollicone il primo giugno era entrata nella caserma dei carabinieri e nessuno dei Mottola quella mattina era mai uscito dalla caserma. Arriviamo all'11 aprile del 2008 succede qualcosa che immerge in un'oscurità ancora più inquietante tutta la vicenda che riguarda la povera Serena. Il cadavere di un brigadiere dei carabinieri viene trovato all'interno della sua auto si è sparato con la sua pistola di ordinanza. Quel carabiniere si chiama Santino Tuzzi e aveva partecipato alle indagini sul delitto della ragazza ma non solo. Tuzzi come vi ho detto aveva sostenuto di aver visto Serena entrare in caserma poi però aveva ritrattato dicendo che forse quella non era Serena. Inizialmente qualcuno sostiene che l'uomo si sia tolto la vita in quanto depresso era tanto innamorato di una donna che però non poteva stare con lui. Ecco perché aveva deciso di compiere quell'insano gesto. però sul luogo del ritrovamento del corpo di Santino Tuzzi si fa vivo un caro amico del brigadiere che inizia a pronunciare con vemenza parole davvero allarmanti. L'uomo dice c'entra col caso di Serena gli hanno tappato la bocca ma non dice solo questo infatti aggiunge che il cellulare di Serena era stato riportato a casa mollicone dal maresciallo Mottola capo della caserma di Arce. Il maresciallo Mottola è colui che il giorno del funerale di Serena aveva prelevato il suo padre Guglielmo per portarlo in caserma quindi Tuzzi dopo aver detto la verità era terrorizzato sapeva che era stato rischioso parlare e aveva paura per se stesso e per la sua famiglia ecco perché si era tolto la vita con un colpo di arma da fuoco sul greto del fiume Liri il fatto che qualcuno abbia collocato Serena all'interno della caserma il giorno della sua scomparsa rappresenta la prima vera svolta nelle indagini l'intera famiglia Mottola viene iscritta nel registro degli indagati la verità però è una ed è triste l'unica persona che aveva ammesso di aver visto Serena quella mattina in caserma si è tolta la vita e ahimè non ci sono altre prove che dimostrano quei fatti l'indagine a questo punto subisce una brusca frenata e rischia di essere archiviata ma Guglielmo Mollicone non molla lui è sempre in prima linea per scoprire chi abbia ucciso sua figlia senza alcuna pietà nel 2011 nuovi rilievi scientifici evidenziano 15 tracce di DNA sulla felpa di Serena si procede dunque a comparare il DNA ritrovato con quello di quasi 400 persone ma tutti gli esiti sono negativi si va quindi verso l'archiviazione i consulenti della difesa di Guglielmo sono convinti che l'incognita sulla morte di Serena vada svelata all'interno della caserma e Guglielmo Mollicone lo ripete lo dice in continuazione a ogni intervista entrate in quella caserma controllate entrate in quell'alloggio in seguito in seguito all'opposizione dei familiari della vittima all'archiviazione il 13 gennaio 2016 il GUP del tribunale di Cassino Angelo Valerio Lanna dispone il proseguimento delle indagini indicando quale tema di approfondimento l'ipotesi investigativa dell'evento omicidiario all'interno della stazione dei carabinieri di Arce Eris di Roma per 9 ore compiono i rilievi all'interno della caserma di Arce in particolare si concentrano sull'appartamento in questione e sulla porta dove secondo gli investigatori la ragazza avrebbe sbattuto la testa la porta in realtà era stata posta sotto sequestro nel 2008 e presentava una lesione da sfondamento all'altezza di un metro e cinquanta la terra la procura a questo punto sostiene che qualcuno ha spinto in modo molto violento serena contro la porta ovviamente bisogna dimostrarlo e non solo sostenerlo vengono quindi eseguite delle prove di compatibilità attraverso un calco di gesto del cranio di serena lasciato cadere su una porta perpendicolare al pavimento la battaglia è tra i consulenti della difesa e quelli dell'accusa per l'accusa c'è compatibilità fra le lesioni di serena e lo sfondamento della porta mentre per la difesa dei mottola una porta di compensato non potrebbe mai sfondare un cranio e poi perché su quella porta non ci sono tracce di serena sarà stata ripulita i consulenti dell'accusa questa volta ribattono che è vero non c'è traccia di serena sulla porta ma sul corpo di serena invece sono presenti tracce di quella porta infatti vengono trovati frammenti minuscoli di legno che corrispondono al materiale di cui è fatta la porta della caserma nel 2016 viene richiesta e ottenuta la riesumazione del corpo di serena per effettuare un nuovo esame autoptico a questo punto si riparte dall'inizio vengono ripercorsi tutti i movimenti di serena di quella mattina del primo giugno ed ecco che riemerge la testimonianza di carmine belli colui che aveva trascorso un anno in carcere da innocente secondo questa nuova ricostruzione serena dopo aver fatto l'ortopanoramica si sarebbe incontrata con marco mottola nel piazzale del bar chiopetelle dove vengono visti da carmine belli discutere animatamente alle 11.30 serena sarebbe entrata in caserma in seguito a un litigio sarebbe morta per asfissia dopo aver sbattuto la testa contro la porta e aver perso i sensi ma a quanto pare serena prima di perdere i sensi si sarebbe difesa la nuova autopsia riscontra lesioni al ginocchio e al gluteo il corpo della povera serena quindi sarebbe stato poi legato in caserma e trasportato di notte fino al boschetto a nitrella dove sarebbe stato trovato tre giorni dopo il GUP del tribunale di Cassino Domenico di Croce il 30 giugno 2019 chiede il rinvio a giudizio per 5 persone si tratta del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola della moglie Anna Maria del figlio Marco e del maresciallo Vincenzo Quatrale che sono accusati di concorso nell'omicidio Quatrale inoltre è accusato di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzzi ebbene sì a quanto pare era lui ad aver fatto pressione a Santino Tuzzi affinché cambiasse la sua versione sulla vicenda di Serena all'interno della caserma di Arce infine l'appuntato Francesco Soprano è accusato di favoreggiamento il 13 novembre 2019 comincia l'udienza preliminare davanti al gruppo di Cassino Domenico di Croce che deve decidere sui rinvi a giudizio si costituiscono parte civile contro gli indagati la figlia del brigadiere Santino Tuzzi Maria il padre e la sorella di Serena Mollicone e altri familiari della diciottenne il 26 novembre 2019 Guglielmo Mollicone il padre di Serena viene colpito ahimè da un infarto e ricoverato all'ospedale Spaziani di Frosinone fino a quando il 31 maggio muore in una struttura di lunga degenza a Veroli in provincia di Frosinone questo uomo questo grande papà per 19 anni ha chiesto giustizia non si è mai arreso sempre fiducioso che prima o poi qualcuno avrebbe pagato per l'omicidio della sua Serena martedì 2 giugno 2020 la città di Arce dà il suo ultimo saluto a Guglielmo Mollicone il sindaco e l'amministrazione comunale di Arce esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Guglielmo Mollicone papà della cara Serena il sindaco Germani dice interpretando i sentimenti di dolore e commozione dell'intera comunità arcese unitamente a tutta l'amministrazione comunale ho deciso di proclamare per domani 2 giugno 2020 alle ore 11 e per tutta la durata della cerimonia funebre del maestro Guglielmo Mollicone il lutto cittadino il processo contro i Mottola si apre a marzo del 2021 e si chiude il 27 giugno 2022 dopo ben 46 udienze il 4 luglio 2022 la procura di Cassieno chiede una condanna a 24 anni per Marco Mottola per l'omicidio di Serena Mollicone assassinata il 1 giugno del 2001 nella caserma dei Carabinieri di Arce i giudici inoltre sollecitano 30 anni per il padre Franco ex comandante della caserma e 21 anni per la moglie Anna Maria per gli altri due imputati sono invece stati chiesti 15 anni per il luogotenente Vincenzo Quatrale accusato di concorso esterno in omicidio e 4 anni per l'appuntato dei Carabinieri Francesco Soprano a cui è contestato il favoreggiamento la sentenza verrà annunciata il 15 luglio e mi auro con tutto il cuore che la giustizia faccia a suo corso ovviamente appena verrà annunciata la sentenza vi informerò con un commento bloccato in alto il mio ultimo pensiero va al papà di Serena spero si sia ricongiunto con la sua adorata figlia detto questo io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento me l'avete chiesto in tantissimi ultimamente probabilmente perché finalmente si è tornato a parlare di Serena Mollicone aspettiamo assolutamente la sentenza di primo grado del processo ricordandoci però che c'è poi l'appello e la cassazione io onestamente spero che queste persone siano condannate io credo già che gli anni che dovranno scontare siano pochi ok in confronto a quello che hanno fatto è davvero poco a mio avviso ma speriamo che almeno questi anni se li facciano ecco e speriamo di non incappare in degli sconti di pena anche se risulta molto molto difficile ma voi cosa ne pensate di questo caso immagino che lo conosciate quindi fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti come al solito ci sentiamo lì insomma io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti